Buonasera mister, ci sono delle informazioni, delle notizie che dicono che il Paris Saint-Germain potrebbe fare un'offerta per Cristiano Ronaldo alla fine dell'anno? Non so niente. Volevo chiederle se riesce a immaginarsi il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo. Sicuramente, il Real Madrid può fare a meno di ognuno di noi, non può dipendere da un giocatore o da un allenatore. Il Real Madrid è molto più grande di ognuno di noi. Grazie a tutti.